Oggi a Mentecast vi parlo di... Come Nagasaki ma firmato Satan Ma perché? È una cosa grossa No, no, cattivo Satan è cattivo, non ha le tette Che ne sai? Magari te sono cattiva Non credo Sicuramente ti inducono in tentazione E sono di Satan Quanto dura quest'intro? Quanto serve? Tutto quello che serve Oh Adrian Ciao di nuovo Buonvenuto Buonvenuto Sarebbe questa cosa Io ho studiato e anche tanto Volevo sapere se invece tu l'hai fatto Perché io a differenza tua sono adatta Di ripetizioni d'italiano e non dico buonvenuto Ah quindi tu non hai studiato Perché sono andato a ripetizioni d'italiano Perché io sono andato a ripetizioni d'italiano Benvenuti a Mentecast Sono andato a ripetizioni d'italiano Oggi in studio con noi Adrian Uno che ne ha bisogno Sì Perché è a mezzo francese quindi È vero È vero Allora Oggi io ti voglio parlare Di una storia Che dovrebbe essere un po' più nota di così Mettiamola in casa Vediamo se sei ferrato in storia Sì La seconda guerra mondiale No Mi finisce Con Col botto In che modo Col botto Col botto Un botto Un botto Doppio botto Doppio botto Quindi c'erano Sì Due bombe nucleari Tiro E invece Questa è la piccola grande fake news Perché c'era una terza bomba Ma una terza bomba esplosa? No Calmi Con calma Non è stata usata Ti dirò di più Non è stata manco finita di assemblare Perché il giorno che arriva Nagasaki L'imperatore Irohito Come sai benissimo Si arrende pubblicamente No Non si arrende pubblicamente dicendo Abbiamo perso Dice Una roba tipo Un giro di parole per dire Non è che le cose sono proprio andate a nostro favore Va bene Però l'ha detto benissimo L'ha detto Per la quasi totalità della popolazione giapponese Quella era la prima volta che sentivano la voce dell'imperatore Parliamone Una cosa grossa Comunque Al di là di questo Quello che cercavo di dirti È che dopo la seconda bomba Gli americani erano perfettamente pronti a farne una terza Ad assemblare una terza bomba Perché posso dire un attimo una cosa? Sigla degli americani Democracy is not negotiable Esattamente per questo motivo Diciamo Sì E questa terza bomba Ripeto Non era una bomba vera e propria Nel senso che non era stata assemblata Sarebbe stata molto simile a Fatman Cioè quella di Nagasaki Ma di fatto pronto pronto C'era soltanto il suo nocciolo Il suo nucleo interno fatto di plutonio Si chiama Rufus Nome in codice Rufus Si tratta di una palla di plutonio In lega con altri metalli Grande più o meno così Circa 9 cm di diametro Per 6,2 kg di massa E ripeto E quella è la parte difficile del fare la bomba Il resto sono due pezzi di ferro Cioè la parte difficile è assemblare il plutonio No, non è assemblare Perché assemblare significa che sono parti diverse che vengono montate Plasmare Plasmare Sì, fonderlo Fondere il plutonio E quella è la parte difficile? Sì, perché devi recuperare il materiale Devi separare le parti che ti interessano Concentrarle in un posto solo E fare questo nucleo No, parli di idea che quella fosse la parte difficile Ti assicuro che non sapevo questa cosa Il plutonio è raro No, che fosse raro, ok, d'accordo Ma difficile tecnicamente da fondere Vabbè, diciamo che le bombe si fanno più spesso In numeri più elevati Delle bombe atomiche Mettiamola così Ora, per capire la nostra puntata Però c'è un problema Cioè che dobbiamo andare un po' nella scienza Nella fisica nucleare Di quello che succede dentro una bomba atomica Fisica nucleare di cui tu sei un esperto No, e questo è il punto Infatti grazie dell'intervento Perché in effetti io potrei dire una serie di Puttanate Quelle che chiameremo amichevolmente puttanate Me la sono studiata Sono nel ramo scientifico Conosco un po' di chimica Però non sono uno specialista Quindi onestamente potrei fare un sacco di errori di fisica Che per un fisico invece potrebbero essere banali Parti più avanti di me, cara Va bene, però dico io Io cercherò di spiegarla Mettendola in parole comprensibili per me E spero anche per te Spero di fare delle domande alle quali non conosci le risposte Non vedo l'ora E non vedo l'ora neanche che io venga corretto Da chi invece le sa Perché se tu ci stai ascoltando e ne sai di questa roba Ti prego, fermami e commentami Correggendomi Perché è una roba che ci sta Però, dicevo Cosa succede in una bomba atomica? L'idea è che Deve avvenire quella che si chiama una reazione a catena Ok? Per esempio esistono degli atomi Questi molto pesanti Come gli atomi di plutonio o di uranio Che hanno un nucleo molto grande e complesso Che è una parte interna relativamente piccola dell'atomo Questa roba è fatta di un sacco di oggetti Che sono tanti e affollano il nucleo E certe volte non sono molto stabili Per esempio se arriva un neutrone Che è una particella piccola Che fa parte della popolazione normale del nucleo Ma arriva e si aggiunge Allora questa roba potrebbe causare Innescare un'instabilità di questo nucleo E indurre a spezzarsi Quello lì, quello colpito Si dividerà in altre parti Che andranno a colpire tutte le parti vicine In soldoni è questo Più particolareggiato ti posso dire Che il nucleo letteralmente si spezza in due Va incontro a una serie di trasformazioni La famosa fissione La fissione nucleare è questa E durante questa fissione Oh non so un cazzo ma le due cose che so Vanno benissimo Vanno grandissime proprio Questa roba qua Questo spezzamento del nucleo Non è soltanto una divisione in due Del materiale che compone il nucleo originario C'è della roba che avanza Ci sono dei neutroni extra Che vengono sparati in giro E che vanno a colpire quelle robe Ecco, se Se noi abbiamo quella che si chiama una massa critica E quindi un numero sufficiente di altri atomi Lì intorno È possibile che questi altri neutroni Che vanno sparati Entrino in altri nuclei E inducano trasformazioni simili Quindi scusami È una massa o una densità critica? Le due cose sono uguali? No, è un'ottima domanda questa Perché in effetti Si chiama massa critica Perché è una massa quello che ti serve Però tu puoi indurlo anche in altri modi Per esempio con la densità Perché se tu schiacci tutto insieme Dattemi una laurea ad onore In fisica nucleare Perché no? Così Perché l'idea è questa Massa vuol dire solo che ce ne sono abbastanza di questi atomi Certo E siccome i neutroni vengono sparati a caso in giro Sì Molto probabilmente Gli atomi sono relativamente pochi in questa cosa E i nuclei sono anche piccoli Quindi è improbabile che un neutrone colpisca letteralmente un nucleo Quindi quando io ti dico massa critica Vuol dire che sono tanti Se tu ci metti abbastanza Allora cresce la probabilità Che un neutrone venga a colpire un nucleo E inneschi una nuova reazione Non è necessario che sia per forza quello Perché tu puoi anche innescarla proprio Schiacciandoli e avvicinandoli Perché se sono più vicini Allora aumenti di nuovo la probabilità Cioè tra lì Lì sì che si aumenta la probabilità molto di più Beh in tutti e due i casi dipende Chiaramente aumenta con velocità diverse probabilmente Però l'idea è che si chiama massa critica Anche questo è un concetto che va chiarito Critico è il momento in cui questa serie di reazioni si sostengono da sole Si autoalimentano Cioè se per ogni atomo che si spezza Ce n'è un altro che viene indotto a spezzarsi Almeno un altro E allora vuol dire che si sta sostenendo E la cosa può andare avanti da sola Se raggiungi la massa critica questo avviene Finché non ne hai abbastanza sei subcritico E questa cosa semplicemente ogni tanto se ne spezza uno a caso Che non colpisce niente Le cui parti non colpiscono O meglio Le cose che vengono colpite non sono sufficienti a mantenere questa reazione a se stessa E quindi piano piano questa cosa si smorce Si spegne Esiste invece la supercriticità Che è uno stato in cui Vengono colpiti più atomi di quanti neutroni vengono liberati No, scusami, lo ho espresso male Vengono colpiti più atomi di quelli che servirebbero a farlo rimanere stabile E quindi questa reazione a catena cresce E si spezzano sempre più atomi a una velocità vertiginosa Questo è quello che succede nelle bombe atomiche Quindi loro ricercano la supercriticità Cioè ricercano l'instabilità Quando tu vuoi far esplodere questa cosa Vuoi mandare questo nucleo a una condizione di instabilità tale Che si spaccano sempre più atomi a una velocità sempre maggiore Il che portano a liberare tutta questa energia nelle esplosioni che conosciamo Ok, d'accordo Ok, questa è l'idea Ora, come la induci? Due modi li abbiamo già detti Un modo è raggiungere la massa Ok? Perché se tu hai due mezze masse critiche e le metti insieme Nel momento in cui loro sono insieme Si rimpallano i neutroni tra di loro e raggiungono quello stato di supercriticità Ok? Semplicemente se ci hai abbastanza atomi tutti nello stesso posto E così è come funzionato Little Boy Non riesco a capire esattamente perché due mezze masse critiche siano meglio di una grossa massa Semplicemente perché aumenti il numero di atomi che partecipano E quindi aumenti la probabilità che i neutroni vanno a colpire qualcosa Questo è il punto No, con la mia domanda era Ma ripeto, possiamo sorvolare Però nel senso Perché due mezze masse siano meglio di un'unica grossa massa Allora, posto che questa è la cosa che mi ha richiesto più energie Perché nel senso quando mi sono andato a studiare la mia domanda era sostanzialmente questa Quello che io credo di aver capito è che diventa solo una funzione della probabilità che un neutrone ha di colpire un atomo Se ce ne sono di più nello stesso posto aumenta la probabilità e quindi la massa è super critica Questo è quello che ho capito Per esempio la bomba atomica che è andata su Hiroshima Che ripeto è Little Boy La vedi che è allungata perché le due mezze masse sono ai due capi della bomba Quando la bomba deve esplodere una viene fatta spinta contro l'altra e insieme raggiungono questo stato Ok? Al contrario Fatman funziona nell'altro modo Innanzitutto dentro c'è plutonio e non uranio Ma Fatman è una bomba Un unico massone È un unico massone che è appena appena sotto la criticità Ma è circondato da una sfera di esplosivi che vengono fatti esplodere del tutto contemporaneamente Questa roba schiaccia la sfera che aumenta di densità e raggiunge quello stato che dicevi tu Ok Ok? Quindi il concetto non è troppo diverso No Però c'è un terzo modo E io spero di riuscire a arrivare a dipingere questa cosa Indurre la criticità convincendo gli atomi ad essere più critici di se stessi Sì Mettendoli davanti ai loro sbagli Esatto Mettendoli davanti ai loro sbagli Esattamente In un certo senso sì L'ho fatta apposta questa battuta Perché l'idea è che se tu circondi questa massa subcritica Quindi sotto la criticità Con degli specchi in grado di riflettere i neutroni Ogni volta che un neutrone manca un atomo e se ne va dalla zona dove c'è l'uranio O il plutonio in questo caso Perché gli specchi riflettono i neutroni? No, non sono gli stessi specchi che riflettono la luce che c'hai in bagno Sono semplicemente dei materiali che possono riflettere i neutroni Hanno delle proprietà che gli permettono di fare questo Un certo punto era mind blowing Certo Palle da discoteca dentro le bombertoniche Posto che non è così assurdo Perché il principio è lo stesso dello specchio Quello che cambia è il materiale Ok Però l'idea è la stessa E tu se metti uno specchio Il neutrone che magari esce da questa palla e non ha colpito nessuno Se rimbalza contro questo specchio e torna nella palla E ha di nuovo le stesse probabilità di ricolpire Rimane attivo E quindi ha una nuova chance L'idea è che tu puoi indurre la criticità anche in una massa relativamente piccola Di materiale fissile Se lo circondi precisamente con tanto specchione da tutte le palle Ah, è al risparmio È al risparmio perché tutti questi neutroni adesso vengono fatti rimbalzare a destra e a sinistra Prima o poi colpiscono È solo una questione di tempo Esatto E questo è quello che andremo a vedere Perché Rufus fa questo di mestiere Rufus viene utilizzato in una serie di esperimenti per studiare questo fenomeno Cioè viene utilizzato Rufus al centro dei sistemi In cui gli si riflettono addosso i neutroni che lui emette Avvicinandosi sempre di più pericolosamente a questo stato di criticità Fara una domanda Non si consuma questa roba? Cioè come fa a essere utilizzato continuamente? Più volte? Te la metto così Gli atomi sono tanti Non è che non si consuma È che ci mettono milioni di anni Facendolo naturalmente e alla velocità normale Perché sono tanti Ok, quindi loro riescono a sperimentare più volte su questa stessa massa Su Rufus Sì, perché l'idea è che Rufus è fatto di Ripeto, sono tanti atomi È difficile comprendere il numero di atomi Se vuoi ti presento Amedeo Avogadro E lui è quello che ha capito No, no, poi è una bruttissima persona È orribile È orrendo Ecco, lui è quello che ha capito i numeri di questa faccenda Non me lo presentare Ci sono un sacco di zeri Lascia stare Ora, l'idea è Lo avevamo visto nella nostra puntata su Quello della tavola periodica Ah, di Mendeleev, è vero Avevamo parlato anche di Avogadro Ah, sì, perché lui aveva Per questo che conosco la sua faccia Perché tu mi avevi detto Bruttissimo uomo È orrendo Bruttissimo Bruttissimo Persona veramente brutta Possiamo riflettere dieci minuti su questo Quanto cazzo è brutto Avogadro? Many unbearable hours later Con le femmine adesso è stato un disastro Basta Avogadro Allora Ripeto, gli esperimenti su Rufus Sono, consistono in questo Di base è una persona Sta lì con un contatore Geiger Che sente quanto sono attivigliatomi E quanto velocemente si stanno spezzando Man mano che lo si circonda di materiale In grado di riflettergli addosso i neutroni Ok, quindi tu che fai? Piano piano Aggiungi materiale Circondi sempre meglio E lui piano piano Va sempre più vicino alla criticità E si può interrompere questa cosa? Ah sì, basta che smonti Smonti questo accrocchio E gli neutroni tornano a essere liberi E la probabilità torna quella di prima Quindi è assolutamente controllabile questa faccenda Però è pericolosa Feynman Che potresti conoscere Conosci Feynman? Sì, sì Fisico compagnone de Nuatri Disse questo tipo di esperimenti È come solleticare la coda di un drago che dorme Lui era abbastanza bravo con le immagini Diciamo che un'immagine ce l'ha data Sembra pertinente È abbastanza pertinente Entra quindi in scena Il nostro fortunatissimo Harry Duglian Chi è Harry? Il nome vero, completo è Haru Tunkirkor Duglian Jr Va bene Harry Per gli amici Harry Harry che fa? Sta facendo questo tipo di esperimenti E nel suo setup La palla di Rufus è in mezzo a una specie di muro quadrato Fatto di mattoni di carburo di tungsteno Che ha queste proprietà di riflettere Quindi lui ogni tanto va lì Aggiunge un mattone E va a guardare se si è avvicinato alla criticità Poi aggiunge un altro mattone E va a guardare un po' più criticità Un po' più criticità Fino a che questa roba non è completamente Quasi completamente ricoperta Siamo allo 0, pochissimo Vicini alla criticità E dice ok Mi annoto i miei risultati Mi segno le misure Con il contatto di Geiger E smonto l'accrocchio Questo è il lavoro normale Che il nostro Harry fa tutti i giorni Posso fare una domanda? A quel punto si già sapeva Che era una roba rischiosissima? Sì, credo di sì Beh, sì Perché dopo Era già morta Ma figurati Ma poi siamo Il progetto Manhattan L'hanno fatto Quindi io tranquillo No, le conseguenze Della radioattività Erano molto chiare Non quelle a lungo termine Mettiamola Quelle a lungo termine Non le sapere Se si era capito Che la curia era morta Dell'esposizione di quella roba lì Non lo so Per quanto riguarda Perché magari lui è lì Lì in canottiera A fare l'esperimento Certo che è lì in canottiera A fare l'esperimento Mani nude Senza occhiali Questo che volevo sapere Cioè come la sta facendo Sanno che è pericoloso Sì Non sono sicuro Che sappiano anche Degli effetti a lungo termine Questo non lo so Cioè il cancro Lo se lo aspettano Il nostro Enrichetto Come finirà? Harry finisce Che finisce benissimo Nel senso che lui Si fa il suo esperimento Fa le sue cose Si annota le cose Va tutto bene Va a casa Va a festeggiare Che bello Che buon esperimento Tocca la bambina Finché non dice Pulisce il pesce Forco cane Ma io Ho lasciato dentro Ho fatto una cazzata Mi sono scordato Di annotare un dettaglio Quindi È ormai Passata l'ora di cena Decide Ma cos'è che c'è Ma io quasi quasi torno E me lo faccio Stanotte da solo E sperimento Va Cosa può andare storto? Lui nella provincia di Chicago Città popolatissima Allo Salamos Dove chiaramente Si è svolto il progetto Manhattan In gran segreto Nel laboratorio C'è ancora Rufus lì Quindi lui la notte torna Gli apre la guardia Che tristemente ho annotato Si chiama Robert J. Emmerly Guardia dell'istituto Ah robbè Mi sono dimenticato una roba La faccio 5 minuti In and out 20 minutes adventure Gli fa così benissimo Quindi lui ricostruisce Il suo castelletto Carburro di tungsteno Carburro di tungsteno Mette tutti i mattoni Fantastico Annota Finalmente prende anche L'ultimo dettaglio E è andato tutto bene Fa per spostare Il primo mattone Gli scivola di mano Gli casca sopra a Rufus Bam Gli è scivolato Un mattone addosso al nucleo Che era nello stato Più vicino e prossimo Alla criticità E l'ha compresso Quindi ha indotto Uno stato super critico E' stato improvvisamente Investito da un fascio Di luce blu caldissima L'unica cosa Che è riuscito a fare E' stato dare uno schiaffo Con la mano destra A uno dei mattoni Farlo capitombolare Per terra E far tornare La situazione Alla normalità Nel frattempo Si è beccato Una dose di radiazione Impressionante Che gli fa dire Ma potevo Sta a casa Potevo sta a casa A guardare A guardare Mike Buongiorno Mike Buongiorno Di Los Alamos No Dovevo venire A far Stronzo E quindi Harry Duglian Kirchor Junior Va in ospedale E 25 giorni dopo Mi crepa Di avvelenamento Da radiazioni L'unica cosa Buona Che riesce a fare Che in questi 25 giorni Lui racconta La sua esperienza Alle persone Che lo circondano Nel senso Non è mica solo lui Ad aver ricevuto Le radiazioni Il tipo C'è anche C'è Robè Roberto è andato C'è da dire Che Roberto Era un po' lontano Stava leggendo Il suo giornale Che come tu sai È uno schermo Rattivo E quindi Il nostro Robertino In realtà Ci mette 33 anni A morire Però muore di leucemia Quindi verosimilmente È stato l'esperimento Però 33 anni dopo Lui i figli Già ce li aveva Quindi il problema Non c'è stato In realtà Ti volevo Promuovere L'imposizione Di una foto Che è Delle condizioni Della mano Del nostro Henry Perché lui Con la mano Che ha battuto Questa cosa Se l'è veramente Giocata Cioè È come se Avessi avuto Un'unica Grossa bolla Che arrivava Quasi fino all'osso E gli è scoppiata tutta Madonna Povero Cristo Veramente Ma ha preso Talmente Tante radiazioni Sto lampo Di luce Povero Cristo Povero stronzo Perché pure Voglio dire Ho capito Ma l'errore Ti capita Cioè Ma già in oneste robe qui Come il rischio È presente Già Secondo me Dovesse utilizzare Un sistema un po' più sicuro Usa una tenaia E non le manine Con una presa Un po' più ferma Per togliere Ste robe qua Per evitare Che possa succedere Cioè riduci Le possibilità Sono triste Che tu dia Dello stronzo Al nostro amico Harry Perché Perché vorrei Che ti salvassi Questi improperi Per quello che viene Il prossimo Perché se no La scala Non fai un problema Di scala Se dai dello stronzo Harry Quello da giù È fuori scala È come il malvagioveto Non te ne puoi Passare subito Va bene I morti Ammazzati Devi avere Una visione D'insieme Per far tardare Una volta Esatto E ti manca ancora Questa cosa Fatela raccontare Il nostro prossimo Protagonista Un gioiellino Dell'umanità Si chiama Louis Alexander Slotin Il dottor Slotin È il più americano Dei canadesi Ok Io lo voglio Ricordare così È canadese Nel senso Che è nato Nativo del Canada Ma è americano Nell'atteggiamento Va in giro Con gli occhiani Da sole Non gliene frega Un cazzo Canotta Blue jeans E stivali In laboratorio Sempre Ok Questo è il personaggio Tra l'altro Il weeaboo americano Wannabe americano Ma ce la mette tuttissima Tra l'altro Nel frattempo Dopo questo incidente Rufus è stato spostato In altro luogo Il laboratorio Si chiama Pajarito E Slotin Però l'ha seguito Perché Slotin Già lavorava Con O meglio Perlomeno Conosceva Da Aglian E prende Le redini Del suo lavoro Proseguendo Gli studi Sulla 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 criticità Di Rufus Ok Il setup è un po' diverso Perché nel laboratorio Di Bajarito Rufus Viene circondato Non da mattoni Che possono essere presi E smontati Ma da due semisfere Più o meno grandi così Una sfera grande così Tagliata in due Con lo spazio per Rufus Dentro Il materiale Che compone Questa sfera O meglio Queste due semisfere È berillio Che ha le stesse proprietà Del carburo di tungsteno Vabbè Stesse Paragonabili Non so se è meglio o peggio Comunque Riflette i neutroni L'idea è che Chiudi le due sfere Chiudi le due sfere Gradualmente E aumentando Sempre più La Come dire La quantità di neutroni Riflettuti E quindi Induci queste cose E vai a controllare Con lo stesso modo Ora Andrebbe tutto bene Sarebbe un bellissimo setup Se non ci fosse slot in di mezzo Perché Questo tizio Tu mi dirai Ma come si Di cosa Di quali meravigliose Macchinari Si avvarrà Per avvicinare Gradualmente E in sicurezza Le due semisfere La corda Quella per il diavolo Guarda Sono contento Che hai colto Il vibe Della situazione Ma è forse Meggio È forse Meggio Allora Circondato da tutti I pancabesti A soliti Che ci sono La birra I pancabesti In realtà Sono altre sette scienziati Che stavano lavorando In questo esperimento Però Capiamoci L'esperimento chiave Di cui ti parlerò È solo Uno con le palline L'altro con L'altro con il cane Il cane La bottiglia Con il metadone La chitarra scordata È un team Di eccellenze Eccellenze Allora Perché ti parlo Questa cosa Perché in realtà L'esperimento Di cui ti parlerò È solo l'ultimo Di una lunga serie Nota che ho detto Ultimo Spoiler È l'ultimo Però è di una lunga serie In cui il nostro slot In acquisito Una cazzimma È certissimo Delle sue capacità E le sue capacità Consistono in Tenere mezza sfera Con una mano E con un cacciavite Fare leva Piano piano Bellissimo Capisci Cioè ci sarebbero Dei normalissimi Spacer Da mettere lì In modo tale Se ti scivola Track O meccanizzare il processo Per avere un grado Di precisione maggiore Per esempio Stiamo parlando Del 46 E nel 1946 Non è che non esistano I motori No infatti Lo puoi fare Con l'elettricità Per esempio No Lui ha detto Il cacciavite Quindi ci sta questo coso Che da una parte è appoggiato Lui tiene bene Staspera Alla fine è bene Però Dall'altra parte Lui ha in mano Un cazzo di cacciavite Di merda Che è infilato lì E piano piano Che fa Prima lo abbassa Poi è un cacciavite piatto Quindi a un certo punto Inizia a metterlo Verso il piatto Piano 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 Si avvicina Sempre E con i contattori Giacomi Giacomi Sta a guardare Sta a guardare Quanto è Dimmi Dimmi Di più o di meno Come l'avevo Capovaro Vado Vado Vadi Vadi Insomma Questa cosa Va a finire Esattamente Nel modo Che ti aspetti Per nessun motivo In particolare Questo imbecille Gli sfugge Il cacciavite La sfera Si chiude Ermeticamente E praticamente Inizia Questo stato Super critico Che dura Una frazione di secondo Perché lui Ci aveva la mano lì Quindi La butta via Immediatamente Ma in questa frazione di secondo Il lampo blu Investe la stanza Il ragionier Filini Che teneva I dati Cosa ha registrato Il ragionier Filini Ha registrato Che il nostro Signorino Slotin In questa frazione Di secondo Si prende L'equivalente De Il doppio Delle radiazioni Che avrebbe ricevuto Una persona Che era A un chilometro Dalla bomba Di Nagasaki Perfetto Ok Un chilometro solo Considera che A quattro Smetti di essere Vaporizzato Istantaneamente Ok Quelli che erano A un chilometro Hanno preso La metà Delle radiazioni Di questo strozzo Qui Posso dire Meritatissime Meritatissime E tu che Offendevi l'altro Che gli è solo Scivolato Guarda Scusi Scusi Come era Henry Duglian Henry Duglian Mi rendo Conto Dell'errore Ecco E quindi Slotin Ci mette Nove giorni A morire Di avvenenamento Sono anche troppi Guarda Io gli avrei dati di meno Gli altri sette pure muoiono Però in realtà in circostanze varissime Quindi Non si può Imputare Alle radiazioni E la morte degli altri Però nel senso Era proprio la prassi Questo stava lì Con gli stipani I jeans In cacciavite Tutti i giorni Più volte al giorno In cacciavite L'unica cosa Interessante Che fa questo È Urlare ai tizi Di stare fermi Poi qua In realtà Le fonti divergono Perché alcuni Dice che Se ne sono andati E invece In più fonti Sento che lui Si incazza E lancia dei gessetti Alle varie persone Perché Per segnarsi dove si trovano Così possono Misurare la distanza Dal Rufus E Stabilire quante Radiazioni Sono beccati Per vedere In che pericolo Si trovano In effetti Questa cosa Lui la fa bene I calcoli Sono fatti E questo È sicuramente Certo L'unica cosa Su cui non sono certo È che non Se ne siano andati Terrorizzati Da Quello che avevano Compreso Ora detto questo Rufus Smettiamo di chiamarlo Rufus E chiamiamo col nome Che si è guadagnato E con cui è diventato famoso Che è Demon Core Cioè Il nucleo del demonio Ok Ok Però scusami Non è tanto colpa sua Onestamente Il povero nucleo Era abbastanza inerte Fino a quando Che non gli andassero A rompere i coglioni È solo diventato famoso Perché è l'unica Ha generato Le uniche vittime Della guerra atomica Civili E fuori dal tempo di guerra Ok Quindi Le uniche No Aspetta Com'è possibile Che siano le uniche No Ci sono stati Tutti i test nucleari Su dei poveri stronzi Che correvano Nel deserto Nel Nevada Prima che buttassero Sì sì Mi ricordo Mi ricordo Buttavano le bombe E c'erano i soldati Che dovevano correre incontro Non mi ricordo Com'era la faccenda Ma la roba Poi anch'io Faremo la puntata Sull'era del nucleare Ma ti dirò di più In effetti Forse ho esagerato io A dire le uniche Perché poi Mi sono pronto a dirti Che di incidenti Di questo tipo Ce ne sono stati 60 Ma poi infatti Tutti i test Anche francesi Nelle isole Quelle sono le esplosioni Quelle sono le esplosioni Per vedere le bombe E non ci sono delle vittime Non mi riguarda Non ho studiato Allora magari Sono delle vittime Che non ce ne frega niente Perché sono Quelli che abitavano Lì sull'isola Quindi chi se ne frega Direbbe Lo spirito colonialista Però Secondo me Qualcuno Qualcosa Si è preso Sicuramente No però io dicevo 60 incidenti Di questo tipo Ok Quindi Di applicazioni civili In laboratorio Tra applicazioni civili E di studi Di fisica pura Ok Però detto questo Sono 60 Gli esperimenti falliti In questo modo E almeno 21 vittime Quindi tra quelle accertate Quindi Profetico Fermi Enrico Enricuccio nostro Di Roma Che poco tempo Prima di questa roba Disse Continuate a fare Gli esperimenti In questo modo E sarete morti Entro l'anno Poteva dire mese Capisci Bella Fermi Bravo Fermi Fermi è una superstar Comunque niente Viene Passa la storia Come Demon Core Dopodiché viene fuso Non lo fanno più brillare Doveva Aveva Non è rischiosa Già la fusione Per questo genere No No Scarti Suddividi E semmai Togli pericolosità Perché suddividi La massa In più parti più piccole E scongiuri La criticità Però dico Lo dico proprio L'atto della fusione Sporlo Alcalo La temperatura Non dovrebbe influire Su quei tipi Non mi rendo conto Io Io l'avrei lasciato Lì dove stava Magari lo chiediamo Ai fisici che ci guardano Che sono tantissimi Immagino Vieno così Comunque Come non è Rufus Cioè Demon Core Inizialmente doveva essere Utilizzato per l'operazione Crossroads Che sarebbe La prima esplosione Civile Cioè in tempo di In tempo di pace Che era Sull'atollo di Bichini Ah Non è stato utilizzato Pensavo sulla ghigna dei russi Per esempio No Comunque era un atto dimostrativo Ah ok Però in realtà Non lo hanno Fatto con lui E hanno utilizzato Un altro nucleo E Rufus È stato fuso E unito Alla massa Delle riserve Di materiale fissile Degli Stati Uniti Quindi oggi Disperso Però in realtà Ci starebbe un po' Da dire Perché in realtà Nel frattempo Rufus è diventato Meme Cioè Sì Questo Questo Mi dà veramente Dei vibe Raccapriccianti Ma meme Nella comunità Scientifica O meme In generale No no Meme Nella comunità Giapponese Ah Giapponese Come giapponese Eh Questa è la faccia Che ho fatto io Mi sembra C'è una serie Di Io ho tro Quando cerchi Demon Core Su Google Eh Tra le Tra le varie Tra i vari risultati Trovi anche Knowyourmeme.com Ok Che è dove stanno Tutti i memi E salta fuori Il sito che ti spiega I memi Sono dei memi Giapponesi Squissitamente Giapponesi In cui Ragazze Succinte Solleticano Questo oggetto Racchiuso In due miei Sfere Oppure Personaggi Manga Famosi Che hanno a che fare Con questo E addirittura C'è una serie Di cartoni Che io veramente Quasi quasi Ti chiederei Di mettermi Una clip Di questa roba Perché è eccezionale In cui Demon Core Parla Perché è fatto Di due Sfere Con al centro La palletta E mastica Un cacciavite Che chiaramente Gli tiene aperta La bocca E nelle varie Puntate Di questo short Gli casca Puntualmente Questa cosa Fa TING Lampo blu E incenerisce Tutti i suoi amici Coniglietti Questa è la comicità Giapponese Cioè tu penseresti Che loro hanno Un trauma No il trauma Ce l'hanno Sì però vabbè Però lo elaborano In questo modo Lo elaborano In questo modo Però va strano Godzilla è L'elaborazione Del trauma Ma anche Kenshiro Tutte queste robe qua Che vengono fuori Scenari post apocalittici Con le bombe atomiche Di una volta Toki In quel modo di crancro Come no Ti è piaciuto Mi è piaciuto moltissimo Molto bella È una storia Che non capisco Perché non si conosca Di più Perché Comunque Quei fumetti Che ti dicevo Si chiamano Demon Cor Kun Tipo Il suffisso Per dire Amichetto Demon Cor E sai uno Che non gliene frega Niente Invece Anche se fosse Anzi lui Andrebbe proprio A fare lo scherzone Al tizio col cacciavite E fa E fa E lui Non muore Sei morto Sei morto Di avere Lanzetto di radiazione Io tanto Che me frega È il nostro Ursulo Il nostro Ursulo Vi consiglia Di guardare Altre puntate Nostre O di ascoltarle Su Youtube Su Spotify Su iTunes Su Soundcloud Su tutte le piattaforme Su cui pubblichiamo Ma se volete Invece sapere Quando usciranno Le puntate O rispondere Per esempio Ai nostri quiz Che noi ogni tanto Facciamo E qui Nessuno risponde Fammi un esempio Eh? Di cosa? Di quiz? No, noi facciamo L'immaginetta In cui mettiamo Un indizio Ah, secondo te Di chi Di cosa parleremo Nella prossima puntata Nessuno risponde mai Perché o sono troppo Criptici Siccome li faccio io Perché Facebook È per i vecchi Ma no Li pubblichiamo anche Su Instagram Anche su Instagram Non ci cagano E invece tu potresti Essere il primo A rispondere A uno di queste A uno di questi quiz E li pubblichiamo Appunto su Facebook E su Instagram Ma Ti chiedo Perché non lo so Ci sono delle fonti E soprattutto Queste fonti Dove sono? Nella descrizione E nei commenti Nella descrizione Io non ci vado mai Comunque Sigla delle fonti Per sdrammatizzare Ti Le phone Ti Ci sono molte fonti Allora La Prima Che ti cito È un video Di Kyle Hill Con cui sono venuto A contatto Con questa storia Per la prima volta Che si chiama The True Story Of The Demon Core Che ho detto Minchia E poi ho scoperto E ho detto Minchia Poco l'ho visto E poi Mi ha portato In un tana Del bianconiglio Grandissima In cui ho scoperto Che questa roba In realtà è una roba famosa E non so come Ha fatto a sfuggirmi Fino ad ora In poche parole Ho anche delle fonti Molto genuine Come per esempio Un documento Dei laboratori Di Los Alamos Che è una review Dei 60 incidenti In cui tutti sono elencati Con tutte le modalità E i dati Che si chiama proprio A review Of criticality accidents Su questa roba Tra le altre cose Si nota Che la maggior parte Di questi incidenti Sono in Russia Sono stati in Russia E poi Secondo posto America Terzo e quarto posto A pari merito Inghilterra e Giappone Ok Quindi questa è un po' La mappa Ripeto Degli incidenti Di questo tipo Ce n'è tantissimi Altri Legati All'incidente Anche lì Sergei Con il suo cacciavite Sempre lì Sempre Però Nel senso Ci sono una serie Di incidenti Legati al nucleare Che però Hanno anche Tanto sapore militare Per esempio Uno che ha fatto Un sacco di morti È un rifornimento Di un sottomarino nucleare Sulle coste Del mar del nord In Russia E ha successo Un macello Capito Non l'ho Non è stato conteggiato In questi 60 Perché la modalità Era diversa Come ti stavo dicendo Prima Però di base Non sono pochi Gli incidenti Con la materiale fissile Però c'è anche Un'altra roba Che è molto genuina E molto bella Che è un'intervista Audio registrata Nel 93 a Reimer Schreiber Che è un collega Di Slotin Che si trovava Nella stanza Il giorno dell'esperimento Ancora vivo E ancora vivo Nel 93 Come ti dicevo Non sono tutti schioppati In 3, 2, 1 Come Slotin stesso Lui era quello Che stava lavorando Ai cavoli suoi E a un certo punto Sente Ting Si gira E dice Immagina che cosa Cavolo ti deve passare Per la testa Nel momento in cui Ti accorgi Che cosa è successo Che magari È solo per un secondo Però tu sai Che sei condannato E poi c'è questa luce Blughefim Veste Che tra l'altro È dovuta Alle radiazioni Che colpiscono Le molecole Che compongono l'aria Non c'è un nome Stacolo Non si chiama Effetto Cherenkov No L'effetto Cherenkov È un'altra cosa L'effetto Cherenkov È Quella cosa Che succede Nei reattori In cui A un certo punto Delle particelle Superano La velocità Della luce Quindi fanno una specie Di bang sonico Ma di luce Quindi fanno un lampo Ok Però Qui ci sarebbero un sacco di cose da dire Superano la velocità della luce Nel senso che Superano la velocità della luce In quel mezzo La velocità della luce È insuperabile Nel vuoto Ok Però In quel mezzo lì Non so se È una specie di solvente Allora ci sono delle particelle Che a un certo punto Superano questa cosa Come sei preparato? Su Sì Questa cosa Me l'avevo studiata Tempo fa Non l'avevo ripreparata Per questo Quindi sì Mi appiglio proprio i complimenti Come sei preparato Sei proprio bravo Ma sarei altrettanto bravo Da riuscire A Il Gramofone Gramofone Allora ci sono